prepariamo ora la parte per l'applicazione della moxa abbiamo preparato delle fettine di zenzero che come potete vedere sono bucherellate per favorire il passaggio del calore e le mettiamo intorno alla zona del 30 vescica biliare una volta che abbiamo applicato le fettine di zenzero utilizziamo questa moxa come vedete abbiamo collegato assieme 3 sigari è molto importante che il calore sia massiccio quindi utilizziamo ben 3 sigari contemporaneamente è un'operazione di moxa che richiede tempo ed attenzione possiamo muovere i sigari di moxa in questo modo sempre facendo attenzione che la mananovra risulti piacevole per il soggetto e quindi chiederemo costantemente un feedback per non effettuare niente di fastidioso infatti la moxa deve essere mantenuta sempre a una temperatura piacevole per il soggetto vi ricordo che abbiamo bucherellato con uno stuzzicadente queste foglie queste fette di zenzero estremamente sottili e prima di applicarle sul corpo del soggetto le abbiamo passate in acqua bollente per pochissimi secondi ma realmente 3-4 secondi in modo tale che si ammorbidiscano un po' e soprattutto anche perché in questo modo il succo dello zenzero si trasferirà più efficacemente al corpo del soggetto ricordiamo che lo zenzero per la tradizione della medicina cinese ha specificamente una funzione di rimuovere le energie prevaricanti in particolare le energie prevaricanti di tipo freddo-umidità che in questa visione energetica sono così spesso connesse alle problematiche delle articolazioni eventualmente possiamo dopo alcuni minuti almeno 5 che stiamo in questa zona spostare le fettine di zenzero anche un po' più in alto e scaldare ulteriormente la parte ci vuole pazienza complessivamente utilizzeremo la moxa per almeno una decina di minuti non di meno possiamo dire che questa è una delle parti fondamentali di questo trattamento vi ricordo che durante l'uso della moxa dovremmo fare attenzione alla formazione di cenere e provvedere regolarmente a rimuovere la cenere in modo tale che l'effetto calorico non diminuisca nel tempo e passiamo poi alla fase successiva di mobilizzazione puoi fare